nelle scorse ore al grande fratello vip è scoppiato il caso manuel bortuzzo alex belli l'attore chiacchierando con solei pure lei finita al centro di feroci polemiche stava facendo dell'ironia sulle eliminazioni dal reality a un certo punto ha detto che i concorrenti uno a uno cadono ciò che ha aggiunto poco dopo ha provocato un'ondata di indignazione ultimo rimane manu perché non può cadere da quando belli ha pronunciato tali parole si è scatenato l'inferno sui social sia l'interprete emiliano sia solei sono stati travolti da una pioggia di biasimi sull'esternazione è intervenuto anche lo staff di bortuzzo che al momento è all'oscuro dell'intera vicenda non essendo stato presente al momento della battuta di alex il quale ha chiesto tramite un post social che vengano presi provvedimenti anche franco il padre di manuel ha voluto dire la propria lo ha fatto con un intervento su instagram tanto conciso quanto chiaro manuel è caduto quando gli hanno sparato ales tu sei caduto di stile sempre che tu alla luce di ciò in molti si stanno chiedendo se il caso sarà affrontato da alfonso signorini nel corso della prossima diretta in prime time del gfvip la risposta è sì quasi certamente per il momento il reality non ha dato indicazioni ufficiali in merito ai contenuti che saranno discussi durante la puntata prevista venerdì 5 novembre e e e e e e e